Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Il precedente video si è interrotto per problemi tecnici, quindi con l'aiuto di Stefania abbiamo realizzato una seconda parte di questa recensione, perché c'è molto ancora da dire su questo film e tutta un'altra vita. C'eravamo lasciati con Gianni che litiga con la moglie, le dice e le confessa che l'ha tradita, la moglie non è che faccia più di tanto, cioè rimane lì, ok, va bene, ciao, lui se ne va, è di nuovo sul taxi e ci ritroviamo un po' come alla scena del primo film. Lui di nuovo va a prendere due persone ricche, sembra che le trova tutte lui, va a prendere due persone ricche, le accompagne e questi discutono e ovviamente dicono tutti i cavoli loro davanti a lui, perché tutta la gente lo fa a dire cavoli loro davanti al tassista, ma va bene, dicendo che staranno via due settimane, quindi a lui viene di nuovo l'illuminazione, ok, c'ho due settimane per rifarmi la vita alternativa, chi se ne frega di moglie e figli, va bene. E voi penserete, ok, si andrà da solo perché a quanto ho capito non ci porterà la moglie e i figli a fare questa sorta di vita alternativa e invece no, va a cercare l'aria spada. Io in quel momento ho detto, ma questo personaggio di Gianni è scritto proprio con i piedi, c'è proprio un deficiente, ma scusatemi, ma questa ti ha preso in giro, ti ha derubato, ti ha lasciato appena scoperto che sei un poveraccio, ti ha nascosto di essere un esco e se tu vai ancora a cercarla, Comunque la va a cercare al bar, gli dice guarda che questi fa vedere le chiavi, stanno via per due settimane, che cosa vogliamo fare? Le fa e dopo le due settimane, sti cavoli, cioè cosa vuoi? E quindi lui dice, beh, poi dopo vediamo, perché ormai abbiamo capito che il suo e il lavoro è così, cioè nel senso va a beccare ricchi, si fa la settimana, le due settimane nella casa di questi tizi, poi ne va a beccare altri. Cioè mi sembra davvero assurdo che in tutta Roma sia l'unico tassi, si becchi tutte le coppie ricchissime, però va bene, ok, magari avrà un tipo di clientela, quello ok, e questo è il finale del film. Ditemi voi, cioè io ci ho visto una morale distorta, sarà una bacchettona con un bastone infilato su per il sedere delle buone maniere, cioè ditemi voi, cioè perché onestamente a me sembra una morale distorta, una morale sbagliata, e potete dirmi anche che sono una bacchettona, ma è che non tutti i film vogliono dare sicuramente una morale, però a mio parere qui è veramente qualcosa di sbagliato, c'è un insegnamento sbagliato dietro l'altro, cioè non puoi fare quello che vuoi, tanto la legge non ti punisce mai. Puoi vivere a casa degli altri, puoi vivere a casa degli altri, rubargli la macchina o perdergliela, tanto la legge non ti punisce, puoi tradire tua moglie e tuoi figli, tanto non è importante la famiglia che ti sei creato, no? E quindi sono un insegnamento brutto dietro l'altro. E ripeto, mi dispiace perché comunque ci sono due bravi attori italiani, ovviamente non è che sono dell'actor studio, perché sappiamo che in Italia gli attori bravi, bravi, sono pochi, 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 e neanche quelli che mi piacciono particolarmente. Però c'è qualcuno che esce in questo, in questa bolgia di negati, comunque un pochettino emergere. Mi viene in mente Albanese, che lo trovo molto bravo, Antonio Albanese, a me piace molto come recita, mi viene in mente appunto, adesso ho un blog, Claudio Bisio, Claudio Bisio mi piace molto. Mi viene in mente anche l'angela Finocchiaro, che è molto brava, insomma attori bravi comunque o più o meno che riescono a avere un attimo di rispetto, rispetto agli altri, un minimo di capacità attoriale ci sono. E Brignano e Laminaccioni li possiamo inserire in questa categoria. Cioè Brignano qualche risata me la riesce a far fare, però il film no, ragazzi, il film ha una morale completamente distorta. E sì, mi direte, non tutti i film devono avere una morale, ma che vuole essere una commedia così divertente. Sì, ma io non ci trovo niente divertente. La moglie è rimasta sola con i figli, lui si fa una vita alternativa che non sarà mai la sua reale vita comunque. Perché lui comunque è un tassista e rimane un tassista. Quindi, cioè, non è che prova a emergere in qualche altro modo per farsi soldi, no. Cioè lui vive alle spalle di questi ricastri e onestamente, per quanto io detesti ricchi, trovo comunque orribile quello che fa il personaggio di Gianni. E quindi, secondo me, è un film triste, veramente triste, con un finale ancora più triste. Ma non triste nel senso, triste che piango, triste nel senso che mi fa proprio, metta addosso una sorta di amarezza, una sorta di, boh, non so neanche descriverlo. Un film che è boccio all'istante, che quando era partito mi sembrava anche interessante, ma poi si è rivelato un nulla di fatto, con tanti buchi di trama, buchi logici. Uno dei peggio film italiani che abbia visto, anche veramente assurdo. Cioè, è il mio visitante, film pessimi italiani, veramente tanti, e non parlo solo dei cinepanettoni o similari, ma questo qua proprio, ed è un peccato perché secondo me hanno sprecato un'occasione. Perché avevano due bravi attori, comunque una storia che sulla carta poteva essere interessante, e loro l'hanno sprecata proprio per fare questa cafonata senza senso. E niente ragazzi, questa era la seconda parte della recensione di Tutta un'altra vita, con Enrico Brigliano e Paola Minaccioni. Noi ci vediamo al prossimo video, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina in modo da rimanere aggiornati sempre sui video che pubblico. Se voi avete visto il film, fatemi sapere la vostra opinione, perché sono veramente curiosa, ma fatemi sapere anche se volete un film in particolare che porti sul canale. Un abbraccio a tutti, ciao!